La scuola non deve essere solo un posto dove impariamo nozioni, ma anche come si affrontano le situazioni nella vita, che ci deve educare non solo come studenti, ma anche come persone. Giovani in piazza per una scuola diversa. Nella mattinata di venerdì 15 novembre la rete degli studenti medi di Belluno ha deciso di scioperare in occasione della giornata internazionale degli studenti. Numerose le questioni al centro della protesta, dall'idea sbagliata di scuola del merito, al poco interesse per la salute mentale, all'edilizia fatiscente, al problema del trasporto pubblico, ai tagli all'istruzione fino alla mancanza di un'educazione sesso-affettiva. Questo sciopero in realtà è parte di una mobilitazione nazionale in occasione della giornata internazionale degli studenti e noi siamo scesi in piazza oggi, come c'è scritto nei nostri cartelloni e nel nostro striscione, per chiedere una scuola diversa, una scuola che sia a misura di studente e che ci tuteli, una scuola che pensi alla nostra salute mentale, banalmente una scuola sicura, dove non cadono finestre all'interno degli istituti, dove fa abbastanza caldo per entrare a lezione, è una scuola che pensi veramente agli studenti. Numerosi gli interventi degli studenti, che facendo riferimento non solo alla situazione a livello nazionale, ma anche alla realtà vissuta nelle scuole del territorio, vogliono delle risposte dagli istituti stessi e dal governo. La soluzione parte dall'educazione che viene impartita dalla scuola, ma soprattutto dal nostro Stato. Noi, attraverso questa manifestazione, tentiamo di comunicare con lo Stato e evidenziare il grosso problema delle scuole, cioè il fatto che le scuole non vengono supportate anche in modo economico, in modo adeguato. Attraverso questa protesta noi vogliamo sensibilizzare e anche portare questo problema. Ovviamente è una protesta che nasce dal piccolo e poi aspiriamo a un completo cambiamento dall'alto e nelle stesse scuole, attraverso l'educazione impartita dai nostri professori di tutti gli istituti e anche dalla educazione civica. Se noi cambiamo il metodo di insegnamento e le cose impartite, come insegnamento, cambieremo anche la scuola.